eeeh veretupappa veretupappa e turuturutututu e tarataratatata e veretupappa veretupappa e turuturutututu e tarataratatata veretupappa veretupappa ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui a Giapaz oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video non ci ho fiato e siamo qui nel Giapaz commentare e commentare il post partita della Roma che vince vince e merita tantissimo oggi vittoria bellissima bellissima partita vinciamo 3 a 0 risultato tondo tre punti importanti innanzitutto i punti in classifica sono tre punti d'oro ma poi abbiamo fatto una partita una prestazione bellissima prestazione oggi risultato meritato oggi Udinese ha fatto un tiro in porta un tiro e basta diciamo un mezzo tiro in porta fatto quindi vittoria proprio complessivamente tre reti strameritate vi invito innanzitutto a lasciare un bel mi piace e ditemela vostra qui sotto nei commenti se vi è piaciuta la partita insomma dove possiamo arrivare quest'anno in campionato scrivete sotto qua sotto nei commenti lasciate un bel mi piace ovviamente iscrivetevi al canale attivate la campanella e passate nella mia descrizione seguitemi su tutti i social instagram e piattaforma viola sempre già piacciono dei link qui sotto e passate anche sui profili dei miei amici che fanno il fanta con me trovate i canali loro qui sotto in descrizione parlando del video parlando della partita Roma oggi stramerita fa questo risultato tondo e poteva farne anche uno dei più secondo me perché ovviamente hanno annullato pure un gol tra l'altro che ci stava annullarlo ma non era clamoroso cioè se non annullavano il gol non era una cosa clamorosa perché ci poteva stare come non ci poteva stare il fallo quello di Mkhitaryan per quel motivo hanno annullato il gol comunque parlando di il primo gol arriva praticamente al quinto minuto che io veramente mi stavo mi stavo preparando per fare l'aperitivo perché stavo facendo l'aperitivo poi ho pranzato a fine primo tempo stavo facendo l'aperitivo non ho affatto in tempo ho assegnato la Roma così tipo pum poi sono arrivato in là stavano a festeggiare insomma poi arrivi in storia e breve ovviamente gol bellissimo il primo gol assist il gioiellino un cioccolatino gli ha servito Mancini ragazzi ma che assist ma che prestazione ha fatto oggi Mancini da capitano anche se non la portava lui la fascia perché la portava Pellegrini comunque veramente la prestazione ad hoc oggi Pellegrini che fa quell'assist un cioccolatino gli serve a veritù che di testa si inserisce e quindi non segna solo su rigore pure su azione e gol dell'1-0 poi il 2-0 ovviamente arriva su calcio di rigore che c'era tutta la vita c'era tutta la vita perché entra in area di rigore Mkhitaryan uscita proprio fallo di Musso intervento irregolare appunto su Mkhitaryan che se n'era andato praticamente Musso che entra coi piedi a falce su Mkhitaryan ovviamente calcio di rigore sul dischetto ancora veritù papà e veritù papà e turuturutututu e tarararatatta e veritù papà veritù papà e turuturutututu e tarararatatta fa il 2-0 ovviamente freddissimo dal dischetto veramente veritù è freddissimo spiazza Musso ed è 2-0 io così esultavo e poi dopo è arrivato pure il 3-0 che è stato annullato di Pellegrini che ce l'ho in un altro Fanta veritù ce l'ho in un Fanta Pellegrini c'era un altro Fanta insieme a Mancini e praticamente c'è stato appunto il gol di Pellegrini che però dopo io inizialmente non ci avevo fatto caso di sta cosa e dopo qualche seconda hanno fatto rivedere il fallo che aveva fatto Mkhitaryan e poi se l'ha annullato il gol e lì mi sono arrabbiato perché comunque ce l'aveva il Fanta però vabbè comunque sono contento del risultato e poi diciamo che il secondo tempo pure inizia come il primo la Roma che magari forse fa meno azioni nel secondo tempo complessivamente però subisce poco quindi praticamente niente c'è qualche tiro da fuori di De Paul però niente interventi non ha dovuto fare tanti interventi oggi Paolo Lopez a parte una parata un'uscita ha fatto una buona parata non mi ricordo su chi e poi ha sbagliato ovviamente l'uscita su probabili gol che stava per fare l'Udinese con De Lofeu che si smarca riesce ad entrare dentro l'area e praticamente sbaglia l'uscita Paolo Lopez che viene smarcato da De Lofeu la ridà in mezzo però De Paul si smangia il gol fortunatamente e poi al 3 a 0 arriva appunto al novantatresimo al novantatresimo nei minuti di recupero torna il gol anche Pedrito ragazzi su assist di Dzeko qui danno assist di Dzeko ragazzi anche se però c'è stato un mezzo rimpallo però alla fine comunque pallone di Spinazzola che viene arpionato da Dzeko che c'è un rimpallo che va appunto sui piedi di Pedro e da lì Pedro non sbaglia a giro non sbaglia ottima vittoria voglio sapere la vostra qui sotto per adesso arrivata la legge un secondo della classifica siamo terzi sempre terzi a 43 punti quindi riscavalchiamo la Juve che sta che ieri ha perso con Napoli 42 punti classifica il Milan a 49 e ha perso ieri con lo Spezia grandissimo Spezia ieri l'Inter seconda a 47 punti che deve ancora giocare la Roma terza a 43 punti la Juve quarta a 42 punti poi c'è il Napoli quinto a 40 punti e poi la Lazio sesta a 40 punti e poi l'Atalanta sta più sotto e settima voglio sapere la vostra qui sotto lasciate un bel mi piace un bel commento una bella condivisione se siete nuovi iscrivetevi al canale attivate la campanita e niente ragazzi da qui è tutto e noi come al solito un prossimo video bella ragazzi sempre e comunque forza Roma e vamos ciao ragazzi